Calcio Mercato Juventus. Allegri insiste per il centrocampista, avviati i contatti con l'ex della Serie A. Con l'arrivo di Cristiano Giuntoli, la Juventus è pronta a muovere i primi passi in questa sessione estiva di Calcio Mercato. L'obiettivo del club è quello di definire una rosa ad hoc che possa competere ai vertici alti della classifica. Asimiliano Allegri ha le idee chiare sui uomini che vuole a disposizione per la prossima stagione. In particolare, arrivano aggiornamenti dalla Spagna per un obiettivo dell'allenatore. Si tratta di Frank Chessy. Secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, sarebbero già stati avviati i contatti tra il Barcellona e la Juventus per la trattativa che coinvolge il centrocampista. L'ex Milan è tornato nel mirino dei bianconeri, probabilmente come possibile alternativa a Sergei Milinkovic Savic. Il centrocampista evoriano ha dimostrato le sue qualità anche in Liga e potrebbe essere un'aggiunta preziosa per il team di Allegri. Il quotidiano racconta che la richiesta del club catalano è di circa 15 milioni di euro più bonus. Vi piacerebbe come acquisto in casa bianconera?